benvenuti ad un nuovo mini tutorial firmato fabio ambrosi punto it quest'oggi vedremo come aggiungere l'ombra ai livelli photoshop tre minuti per un tutorial semplice semplice iniziamo ricominciamo dal principio questa è l'immagine da cui siamo partiti per aggiungere un'ombra esterna a questo simpatico orsacchiotto come prima cosa voglio scontornare questo orsacchiotto nelle vecchie versioni di photoshop dalla 2019 in giù quello che dovevamo fare era utilizzare lo strumento lazio magnetico piuttosto che lo strumento automatico per la selezione dei bordi rimuovere scontornare questo orsacchiotto e isolarlo dall'immagine originale bene nell'ultima release di photoshop ne abbiamo già parlato in un altro mini tutorial è disponibile la funzione rimuovi sfondo che fa tutto questo lavoro al posto nostro quindi per prima cosa sblocco il livello tenendo premuto il tasto alt e facendo doppio clic sull'iconcina del livello stesso con il livello selezionato vado nel pannello proprietà e scelgo la voce rimuovi sfondo come abbiamo già visto nel video tutorial dedicato a questa funzione photoshop grazie all'intelligenza artificiale è introdotta nell'ultima release fa tutto il lavoro al posto nostro ok quindi isola il nostro orsacchiotto dallo sfondo bene io voglio aggiungere un'ombra a questo orsacchiotto per dare un po di profondità come fare chi già è esperto di photoshop già lo sa per chi non ha mai messo mano in photoshop magari può essere una novità cliccando su questo bottoncino in basso caratterizzato da una f da una x dove c'è un'etichetta che dice aggiunge uno stile livello aggiungiamo proprio uno stile di livello e scegliamo la voce ombra esterna fatta questa operazione viene aperto una nuova finestra dove possiamo impostare le proprietà dell'ombra che vogliamo dare a questo livello e in particolare in questo caso a questo orsacchiotto quindi per esempio possiamo scegliere la direzione da cui vogliamo far provenire la nostra ombra ovviamente possiamo scegliere il colore dell'ombra la distanza dell'ombra dall'oggetto l'estensione dell'ombra e anche la sua dimensione tutte caratteristiche che possiamo personalizzare in base alle nostre necessità fatta questa operazione clicchiamo su ok l'ombra viene applicata a questo punto possiamo fare quello che vogliamo per esempio aggiungere un nuovo livello premere il tasto g sulla tastiera g di genova per accedere allo strumento secchiello selezionare un colore a nostra scelta e non so dare uno sfondo non trasparente a questa immagine tutto il resto dipende dalla vostra fantasia termina così anche oggi questo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it tre minuti in cui ogni giorno esploriamo semplici funzioni dei principali prodotti adobe semplici ovvero da poter studiare in soli tre minuti se vi è piaciuto questo mini tutorial mettete un like condividetelo con i vostri amici iscrivetevi a questo canale youtube vi aspetto sul sito www.fabbiambrosi.it e ovviamente cercatemi su facebook la pagina da cliccare e da seguire è fabbiambrosi grazie al prossimo mini tutorial ciao 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 ciao